Speriamo che il piano è forte, ma il bambini benissimo, non lo impegnerà, non è che non rimane, ma andate, salta, salta! Siamo arrivati in un'altra parte di un'altra parte. E poi l'uomo forza, che è Roma, che speriamo di vedere che si viene le belle stavate dall'ostarico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.